Benvenuto su Pugila da tastiera, io sono Joe e oggi vedremo insieme cosa ne penso del sacco Hydroshock di Combat Arena. In palestra abbiamo diverse tipologie di sacco che permettono di fare diverse tipologie di allenamento. Questo ha una sua caratteristica che è la sua forma a goccia che ti permette appunto di lavorare da una certa altezza in poi, quindi come l'ho messo io ad esempio ad altezza quasi viso, riesco a lavorare con dei montanti al mento oppure ganci diretti ma anche schivate perché facendolo oscillare io mi diverto a schivarlo, a passarci sotto. Ecco è un sacco che ti permette di fare tante cose ma non altre, come ad esempio molti hanno detto Joe io non posso riuscire a lavorare su un sacco così magari a corta distanza quando io vorrei lavorare al corpo faccio fatica, effettivamente sì perché non è adatto come un sacco lungo a lavorare diciamo con colpi bassi alla corta distanza. Bisogna sempre decidere qual è il tipo di allenamento che uno deve fare. Cose positive di questo sacco, la prima in assoluto che mi sento di dire è che io avevo un problema all'articolazione alla spalla di infiammazione che con l'utilizzo costante di questo sacco sono riuscito ad attenuare fino a farla scomparire. Cosa invece che lavorando su un sacco diciamo magari riempito con stracci o altro mi generava sempre più infiammazione. Quindi questo sacco nel momento in cui uno va a impattare diciamo la forza viene assorbita all'interno del sacco quindi si ha un beneficio. Molti commenti che ho letto è appunto questo assorbimento del colpo lo reputano anche non tanto ottimale. Io devo dire la verità colpendo un sacco di questo tipo oltre a sembrare quasi un impatto con un avversario, ti evita a anche di avere un sovraccarico nelle articolazioni soprattutto delle spalle. Ecco quindi per me questo è uno dei punti principali più importanti. I materiali sono buoni, per me è un sacco di ottima fattura, resistente, lo sto utilizzando almeno da sei mesi, quindi devo dire che fa il suo mestiere. Io ho avuto una buona parabordi proprio acquistata in un negozio di nautica e quello che vi posso dire è l'esperienza positiva fino a un certo punto e poi negativa in quanto un giorno sono entrato nel garage e l'ho trovata a terra con un buco, io dico sempre disacquata perché purtroppo è riuscita comunque e se dovesse succedere in una palestra o comunque un altro garage come non nel mio perché fortunatamente non avevo diciamo prese in quelle zone, prese elettriche eccetera, poteva creare un grosso disagio. Quindi al di là di tutto io mi sento di consigliarlo, mi ci sto divertendo, come allenamenti io mi piace anche sfruttarlo per le schivate, quindi col suo peso per inerzia riesce a oscillare molto bene, quindi io lo lancio, ci passo sotto, faccio le schivate, insomma c'è anche questa possibilità di allenamento. Oltre che alle ripetute, è ottimo per le ripetute, ci sono tre misure, il prezzo è secondo me coerente con la tipologia di materiale, quindi lo consiglio da questo punto di vista, non è un prezzo eccessivo e al di là di tutto è un valido compagno di allenamento. Per quanto riguarda il riempimento, è molto semplice da riempire, seguite le istruzioni perché viene consigliato comunque di riempirlo prima di aria con un compressore per far sì che le pareti si dilatino e la piega dovuta anche al fatto che viene spedito sgonfio, questa piega così si va a rimuovere. Ecco, per riempirlo di acqua io vi consiglio di andare da qualcuno che abbia un rubinetto, comprando un raccordo e innestando il tubo che viene fornito assieme al sacco e di riempirlo in questo modo qui perché altrimenti rischiate di metterci troppo tempo perché effettivamente 40 litri d'acqua ci mette un pochino a riempirsi. Tutto sommato, come vi dicevo, io mi sono trovato bene fino ad oggi, continuerò ad utilizzarlo e nel caso in cui dovessero venire fuori delle cose negative, comunque sia aggiornerò la descrizione qui del video. Nella descrizione vi lascio tutte le informazioni che posso darvi e soprattutto fatemi sapere se nel vostro caso avete avuto esperienze positive o negative, seguitemi anche su Instagram e YouTube, lasciate qua il segui, molto importante il vostro contributo perché mi fate capire che diciamo mi fa piacere avere anche un vostro feedback da questo punto di vista. Io vi ringrazio, a presto e un saluto. Grazie. 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 Grazie.